Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, ci troviamo precisamente in via Blandamura e vogliamo mostrarvi, all'altezza quasi di via Fratelli Rosselli, una situazione particolare. Una situazione particolare perché c'è un'area che da decenni e decenni non è asfaltata, parliamo di terra, terra battuta, che con le piogge determina davvero un quadro di pantano vero e proprio. Bisogna cercare di focalizzare i vari aspetti. Probabilmente, uso la formula dubitativa, questi metri, questo pezzo di terreno antistante alle private abitazioni di via Blandamura, probabilmente questo terreno è di proprietà privata. Probabilmente. In ogni caso stiamo parlando di una strada che è pubblica e questa strada che è pubblica va necessariamente a confinare, a interfacciarsi, passatemi questa espressione come se le strade quasi dialogassero tra loro, stiamo parlando di due lembi di terreno che sono confinanti, uno attaccato all'altro e allora non è possibile che per pochi metri quadri si debbano creare pozzanghere e che vanno poi praticamente a danneggiare, a invadere tutto il resto dell'area che viene, come vedete, attraversata da pedoni, da automobili. Allora io dico a questo punto, e sottolineo se questo lembo, questo pezzetto di terreno di strada è privato e allora l'amministrazione comunale potrebbe provvedere con un'ordinanza in danno e costringere i privati, cioè l'amministrazione comunale esegue a proprie spese il lavoro e poi ovviamente si rivale sui privati che sarebbero costretti, proprio perché stiamo parlando di un qualcosa che rientra nella pubblica utilità. Oppure se la strada, non lo so, e questo lembo è comunale, allora a questo punto deve provvedere direttamente il comune. Sta di fatto che non è possibile che, ripeto, una strada che viene percorsa, siamo per intenderci al lato opposto rispetto all'entrata, proprio verso la fine del parco archeologico, nei pressi appunto di piazza Fellini e dico non è possibile che due gocce d'acqua debbano creare uno sconquasso del genere senza poi considerare che tutto il resto della strada, anche quella di pertinenza comunale, è completamente, il manto stradale è degradato, ci sono avvallamenti, buche e quant'altro. Quindi occorrerebbe riasfaltare come si deve l'area, la zona e in particolar modo questo pezzetto, perché poi stiamo parlando di un fazzoletto di terreno asfaltando il quale il problema si risolverebbe. Ecco, noi non chiediamo chissà che cosa, gli abitanti della zona non chiedono chissà che cosa, ma almeno avere un minimo di vivibilità. E allora, di questa situazione investirò l'assessore ai lavori pubblici, l'assessore al patrimonio, che vedranno il da farsi, anche eventualmente mettersi in contatto con gli amministratori delle civili abitazioni. Ma concludo, qui in queste condizioni non si può vivere, soprattutto d'inverno quando piove sembra proprio un grande lago. Lo sportello del cittadino vi saluta, alla prossima segnalateci i tanti disservizi, sempre con lo spirito di denunciare, ma anche e soprattutto di costruire.